Sì, Lio sanno, tra stai, mi mi dirò che è rilasce nella Pia, per la comezza che lo sentirei prossimo, sia, con il tuo spirito. Vogliamo anche noi oggi ad uogere le buone fringrazia con il segnale per questo anno che è l'ascorso. Comunamente si dice che muore un'anima, non vuole dire un'anima. E dobbiamo rendere conto il nostro bravo al Signore. Non soltanto della vita un'anima, ma della vita intera per noi. Amiamo il nostro nessuno. E' veramente assentato questo grande dovere e di avere ringrazio al Signore. Per tutti i miei che hanno più nei nostri rituali, nel corso di questo anno, come nel mondo, sta per farmi. Ma noi lo odiamo, lo ringraziamo e lo venderemo sempre, questo Dio, perché ci può essere sempre in buona salute e che l'anima che sta per grande sia per me e di grande difficoltà sui noi, nella nostra vita cristiana. e per celebrare l'anima che è di San Cristiano e che conosciamo i nostri peccati. Amén. 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 Signore, figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi i peccati di noi, che togli i peccati del mondo, accogli la nostra sorpresa, perché siete alla destra del Padre, abbi i peccati di noi, perché tu solo è il Santo, tu solo è il Signore, tu solo è l'Altissimo Gesù Cristo, con un Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Signore, figlio del Padre, che togli i peccati del Padre, abbi 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 i Della prima lettera di Sant'Agnostra, figlioli e giubilità di tutti noi, come avete sentito dire che l'anno di Cristo deve vivere, il caro mondo e l'anno di questi i suoi giorni e i suoi giorni. Da questo conosciamo tutti i primi paura. Sono usciti da noi, ma non erano tutti i nostri. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti più noi. Sono usciti perché fosse la protesta, che non tutti sono i miei nostri. Ora vi avrete ricevuto la conclusione del Santo, e tutti avete la conoscenza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscerete e perché non sono le persone che non avete la verità, parole a tutti i nostri. Grazie. 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 La luce stenderebbe in tenere e tenerebbe la novità. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, e gli vede come del Simone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo a Dio. Non era mia la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che venivano i uomini, era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo a Dio. Eppure il mondo non lo aveva conosciuto, venne tra i suoi, e i suoi non lo hanno ancora. A quanti che avevano ancora dato il potere di dedicare i figli di Dio. A quelli che credono e ne sono, e quali non lo sanno né da potere il campo né da potere l'uomo, ma di Dio sono stato ingenerato. E' in grado di specialità. E venne ad abitare a Dio. Noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del punto in giunto, che viene dal Padre, pieno di grazia e del Dio. Giovanni, in grado di specialità, si accostava. Era di lui, di Cristo. Colui che viene dopo i metri avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua finezza noi tutti abbiamo aggiunto grazia per la grazia. Perché l'abbiamo risultato alla parmesa di Mosè. La grazia e la verità venne alla parmesa di Gesù Cristo. Dio è Gesù Cristo. Il figlio è un igendio, è il Dio. Ed è il Signore del Padre, è lui il Signore del Padre. Parola a Gesù Cristo. Non lo viene a te, è Cristo. Giù qui alla piada, Signore, ascoltaci. 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 Grazie a tutti. 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 Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti.